E' che si occupano di affittare l'appartamento ai turisti. Lei fa una media di 3-4 mila euro al mese, per 12 mesi. Perciò se lei si fa ad esempio un debito della sua banca, se lo paga e vi avanza anche di più, alla fine ha il suo capitale. Se si occupi l'appartamento... Tu dà una agenzia da ti lo managere e pesi 3-4 mila euro al mese. Ho capito? Sì, sì. Tanti fanno così. Giovani che scopi... Sì, ma lo danno in affitto poi l'appartamento. Allora, giovani copi magari ci danno la possibilità di comprare l'appartamento, Nel sito... Ecco, così si usa oggi. Però ci sono delle agenzie che si occupano. Lei sta tranquillo... Si, come dappertutto nel mondo. Tutto è così. L'appartamento. Tutto è così. Sì. 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 Sì.